sembra di tornare indietro nel tempo entrando in via tobaggi 8 zona sud di milano sede di questa antica fornace che custodisce i segreti dell'arte del cotto sin dal 1400 quando iniziò a produrre addirittura per gli sforza le formelle che decorano la cagranda oggi è una sorta di borgo d'arte un agglomerato di cortili portici e loggiati che si aprono sugli atelier dove lavorano stabilmente una ventina di artisti e artigiani oltre ai vasi di ogni forma e dimensione qui si trovano camini e formelle centinaia di decorazioni oltre 6.000 tipi di mattoni sagomati ma anche pentole di terracotta per le cotture lente e giare per le conserve tutti realizzati a mano con un procedimento antico che trasforma il grigio dell'argilla nel rosso intenso tipico del cotto lombardo poroso ma inattaccabile dagli acidi permeabile all'acqua ma resistente al gelo per capire come vengono creati non c'è che cimentarsi mettendo le mani nell'argilla e questo è un uno dei pochi posti dove lo si può fare davvero infatti qui per chi vuole sperimentare le tecniche di base ma anche per gli artigiani e gli artisti già esperti abbiamo creato un salone hobby spiega Daria Curti e continua dove trovare tutto ciò che occorre per lavorare dalle argille in pani alle terre speciali colorate e refrattarie fino ai forni e torni per tutti gli altri l'occasione ideale per scoprire ogni segreto della fornace è il terzo fine settimana di maggio quando apre come ogni anno le sue porte visitatori offrendo visite guidate laboratori per bambini e incontri con gli artisti Ricordi il nostro canale quindi Grazie.